Ancora non si trova una soluzione per la riapertura del casello A14 di Roseto degli Abruzzi, chiuso parzialmente da mesi per chi deve percorrere l'autostrada ed è diretto verso Ancona o deve uscire a Roseto degli Abruzzi provenendo da nord. Una chiusura che oltre ai disagi sta creando anche dei danni economici alle aziende nei pressi del casello. Una situazione su cui l'opposizione comunale ha chiesto una convocazione urgente di un consiglio straordinario aperto la politica provinciale, cittadinanza e le attività commerciali, industriali ed imprenditoriali locali per affrontare il delicato tema. Noi come opposizione abbiamo chiesto tutti e sei i consiglieri dell'opposizione quindi Pavone, Marcone, Nugnes, Roichiuti, Di Marco, Rosario e Sciancaione abbiamo chiesto un consiglio comunale straordinario perché è vero il sindaco dice che sta ogni giorno in contatto con i dirigenti del settimo tronco autostradale questo sarà pur vero, non lo metto in dubbio, ma i risultati fino ad oggi non ci sono stati. C'è un provvedimento della magistratura? È vero. Il provvedimento della magistratura non può essere superato? È vero ma la città deve stringersi attorno al proprio sindaco e il sindaco deve poi rappresentare ed essere forte di una rappresentatività che oltre ad essere sindaco gli viene dato da tutto il consiglio comunale coinvolgendo i parlamentari eletti in provincia di Termo, i consiglieri regionali eletti in provincia di Termo il presidente della provincia e tutti quelli che hanno voce in capitolo in questa questione affinché si faccia pressione forte se c'è un problema, se 30-40 metri di guardrail devono essere messi a posto beh, la società provvede immediatamente a sistemare quel guardrail e la magistratura non avrà più un motivo per chiudere e tenere chiuso il nostro casello ecco, io mi auguro che il sindaco di Girolamo che adesso non è più nelle sue mani la possibilità di convocare il consiglio adesso lui deve solo eseguire, deve convocarlo entro 20 giorni sono passati già 7-8 giorni quindi io mi auguro che la prossima settimana lo convochi se nel frattempo invece la situazione, come dice il sindaco, pare si risolverà prima noi saremo felici di aver contribuito per quello che potevamo fare a cercare almeno di tenere un po' alta l'attenzione su questo tema grazie a tutti